E non gli dicevi certe cose, tra primo e secondo tempo lui andava nel gabinetto e fumava la sigaretta. E io dovevo darla a dire a Vietaro perché faceva due tiri dalla sigaretta. Era ridicolo, su 10 capucini a giorno e si rilassava così, era giusto lasciarlo fare. Era giusto lasciarlo fare. Parlando della tifoseria. È vero, è vero. E' da riconoscere che la tifoseria dopo 30 anni ancora vive questo momento come lo viviamo onori e questo io dico che è molto bello. È stato un regalo che avete fatto a tutta la città. Grazie.